Che tipo di uccello sei? Io sono un passego, lei è una colomba e... No, ho chiesto che tipo di uccello sei tu. Sono un corvo. I maschi non sono messi qui. Me ne vado via subito. Cosa hai fatto alla mano? Mi sono scontrata con lo specchio. Davvero? E com'è successo? Mi sono arrabbiata con me stessa. Come ti chiami? Sam. E tu? Mi chiamo Susy. Non è educato fissare la gente. Uccelli, pronti? Chi sei? Da dove sbuchi? Torna al tuo posto. Gli piace a quello?